Ecco qui Linus, un gattino buonissimo, si fa fare tutto, un coccolone, un coccolone Linus. Vuoi vedere i dentini Linus? Ancora i dentini da latte? Sì sì, i dentini da latte, ancora sono piccolino io. Le orecchiette, mi faccio fare tutto, mi faccio tagliare le unghiette, un gattino, bravo, bravo, un patatino, un patatino, un patatino, vai vai a giocare, vai vai vai, vai vai, vai vai, aspetta, aspetta, dobbiamo fare un video, non ti disturbo più, sì sì. Posso? Eh dai, non ti prendo più in giro. Frida! Non mi pare che stiamo facendo... Se le sentite, che gli ho grattugiato un po' con la palla. Frida! Ancora nemmeno i dentini ha cambiato, è proprio un cucciolino. Ma di Frida non lo voglio, lo filmino che vi lo fai vedere come sta la belle sera, Frida. Ora gli facciamo pure i video a Frida, così lo vede la sua mamma. Grazie. Grazie. Grazie.